Stefano Fassina, il Ministro Boschi parlando della riforma costituzionale ha parlato anche di partigiani, come vede queste sue dichiarazioni? Sono dichiarazioni molto gravi, il Governo manifesta prima col Presidente del Consiglio, poi con la Ministra Boschi un atteggiamento intollerante verso chi ha valutazioni diverse e ieri si è arrogata anche il diritto di dare le patenti di autenticità ai partigiani. Chiedo alla Ministra Boschi di scusarsi, le sue parole sono inaccettabili e offensive nei confronti dei partigiani, nei confronti di tutti gli iscritti agli Ampi e nei confronti di tutti gli italiani.